La libertà deve essere completa soprattutto per garantire i diritti dei cittadini. Perugo, sacerdote che ieri sera ha parlato dal palco di Piazza Castello a nome di tutti gli ex resistenti, ha 69 anni dalla liberazione, il senso della festa è questo. E i riti della cerimonia sono una sottolineatura del messaggio sempre attuale del 25 aprile.